Godere del piacere della letteratura navigando e ammirando le bellezze della costiera amalfitana, torna per il diciottesimo anno la rassegna Un Libro sotto le stelle, promossa dall'Associazione Meridiani, in collaborazione con la Travelmar, da Salerno a Positano con una tappa speciale a Procida. La rassegna compie 18 anni e anche quest'anno abbiamo voluto adottare la formula navigante. È un'occasione per riscoprire le bellezze del territorio, quindi quella della Divina Costiera, ascoltare anche della buona musica con l'esibizione di artisti e poi alla fine anche degustare delle ottime pietanze messe a disposizione da pastificio di Gragnano, vino di Gragnano. Insomma abbiamo cercato di unire il connubio letteratura e gastronomia e nonché la bellezza della Divina Costiera. Sul traghetto Aquarius le sei serate che vogliono portare la cultura tra la gente, promuovendo le bellezze del territorio. Il risultato è una formula vincente questa delle sei giornate, anche perché le prenotazioni sono tantissime. Abbiamo cercato di partire da un libro di cultura come quello dello sport, a quello della cucina, a vari thriller e soprattutto a tematiche attuali. Ci auguriamo che anche la giornata del 30 settembre, che è una giornata in più messa a disposizione dalla Fondazione Campania dei Festival, che faremo da Salerno a Procida, si va ad inserire nel contesto di Procida Capitale. Grazie.